Della indignazione della gente, della nostra capacità strategica in termini politici, ma l'immundizia di alcuni settori politici fondamentali, quelli che hanno aperto lo spazio per una forza politica come la nostra. Quanto prende di stipendio un parlamentare, un europarlamentare di Podemos? Un europarlamentario di Podemos può guadagnare tre salari minimi spagnoli, quindi sono 1930 euro al mese in 14 paghe. Il resto del salario dell'europarlamentario deve essere donato bene al partito oppure a ONG o movimenti sociali. Spesso in Italia quando si parla dell'intervento della troica si fa l'esempio della Spagna. È stato così efficace come si dice? Alla Spagna uno di quattro spagnoli sono poveri. Siamo il terzo paese sviluppato del mondo in malnutrizione infantile. I nostri giovani più preparati devono migrare in altri paesi perché non hanno nessuna opportunità alla Spagna. Anche i migranti che venivano a lavorare con noi adesso non vengono più e se ne vanno. Quindi la sostenibilità del sistema di pensione è in rischio. Allo stesso tempo il numero di milionari si dice di milionari alla Spagna è cresciuto negli ultimi anni. Una cosa scandalosa allo stesso tempo che ci sono ogni volta più spagnoli che sono poveri anche avendo un contratto, avendo un lavoro. Secondo me i risultati di queste misure sono assolutamente un disastro. E non è un'opinione, non è questi de Podemos sono pessimisti, sono i dati ufficiali che parlano così. Adesso i nostri paesi sembrano delle colonie, sembrano dei protectorati. Non siamo più stati con una capacità nazionale per dire quasi fa quello che dice il Parlamento, perché questa è una democrazia, alla fin fine quasi fa quello che dicono fuori i tedeschi. Io non voglio per il mio paese, per i miei giovani che siano l'unico futuro possibile essere camarieri per i turisti tedeschi. È un governo che deve chiamare la Merkel per chiedere permesso, per chiedere istruzioni. Secondo me la situazione in Italia è abbastanza simile in questo senso. Come giudica il lavoro del nostro primo ministro Matteo Renzi? Lui ha detto parole importanti contro il rigore, contro l'austerity e per la crescita. Su questo la pensa come voi? Il problema è il contrasto fra quello che ha detto e quello che ha fatto. Alla fin fine hanno fatto una trattativa con la destra in Europa, con quei sostenitori dell'austerità, per negoziare chi sono i commissari europei e chi è il presidente della Commissione europea. Il presidente della Commissione europea è uno che è responsabile delle trattative illegali con multinazionali per non pagare le tasse. E Renzi è politicamente responsabile della presenza di Jean-Claude Juncker e dei commissari europei. Quindi il discorso è bellissimo, ma al confronto dei fatti secondo me ha tantissime cose di spiegare. La politica non può essere soltanto marketing e parole belle. Renzi è stato capace di far credere che io sono la novità, io sono nuovo, c'è la politica vecchia e io sono nuovo. Ma le informazioni che ne ho, per esempio questa riforma dell'articolo 18 che contribuisce a distruggere i diritti dei lavoratori, secondo me è molto vecchia, una cosa molto vecchia. Anche questa trattativa con Berlusconi per chiudere il sistema politico italiano a due partiti. Quindi penso che gli italiani hanno ragioni per essere abbastanza frustrati con Renzi dopo delle promesse che lui non è stato capace di concretizzare. Appunto, al contrario, alla fin fine sembra un politico vecchio che purtroppo è una caratteristica della politica italiana, che è la vecchiezza dei suoi politici, anche se hanno una faccia più giovane. Grazie. 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 Grazie.